Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, ben trovati. Primo Sinter Palace, appuntamento del mercoledì. Propotivo 7, come di consueto, vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospiti di questa puntata ne abbiamo due. La prima è importantissima perché è l'assessore alla sanità della regione Veneto, la dottoressa Manuela Lanzarin. Buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie. La ringrazio, lei è sempre molto disponibile e gentile anche per informare ovviamente i Veneti di quello che sta accadendo. Mi racconti un po' lei cosa sta accadendo, poi andiamo a vedere i numeri perché ne parlavamo prima di entrare in trasmissione. Ho una sensazione strana, mi smentisca, però la sensazione è che la prima volta ci ha avvisato questo virus e adesso ci sta un po' castigando. È un'impressione sbagliata, me la smentisce che ne sarei molto felice. Ma io allora voglio non... Parlo a livello nazionale, per il momento poi andremo nel Veneto. Sì, certo, certo. Cerchiamo di non creare panico e allarmismo perché credo che dobbiamo tutti rimanere con i nervi ben saldi in questo momento. Allora siamo nella seconda fase come è stata definita da molti. Una seconda fase particolare nel senso che ha numeri molto importanti. Cioè ha numeri molto importanti rispetto alla prima fase. Cioè se noi paragoniamo anche i mesi di marzo e aprile quando eravamo nell'apice, però lì c'era un'altra questione, nel senso c'era una questione che avevamo le terapie intensive che crescevano molto. Oggi invece tutto sommato le terapie intensive crescono molto meno e crescono molto di più invece i ricoveri in area non critica. Ossia malattie infettive, pneumologia, semi-intensive. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è più gente che richiede un'assistenza e una cura. Ma perché c'è più gente? C'è più gente perché il virus c'è, è circolato, sta circolando e quindi si fanno anche molti tamponi. Quindi noi facciamo una mole di tamponi impressionante, ne facciamo circa 30.000 al giorno se contiamo i 15.000 circa test molecolari, quelli che conosciamo, e gli altri 15.000 test rapidi antigenici. Quindi facciamo 30.000 tamponi al giorno. Questo cosa implica? Implica che i numeri di positivi, e li vediamo dai bollettini, sono numeri in aumento. Noi monitoriamo molto la parte ospedaliera, quindi la parte delle terapie intensive, che era il grande focus, tutti gli investimenti sulle terapie intensive che ci sono stati. Noi siamo pronti con 1.016 terapie intensive, 1.000, il Presidente dice sempre 1.000 per fare un numero tondo. Sono pronte, attrezzate, però siamo molto lontani oggi, perché oggi mi sembra, questa mattina eravamo a 95, e siamo ancora quindi in quel scaglione, il nostro piano, a fasi che ci dà fino alle 150 terapie intensive. Quindi siamo ancora nella fase, non nella fase gialla, ma nella fase appunto, diciamo così, azzurra, mi sembra di ricordare i colori, adesso non lo so. Quindi nella fase che entriamo, nelle fasi un po' più critiche, gialla, arancione, rossa. Quindi noi entreremo nella fase gialla, quando andremo sopra le 150 terapie intensive e quando andremo sopra i 900 ricoveri. Oggi, questa mattina, eravamo già 800 ricoveri, quindi siamo vicini. Questa dimostrazione è che i ricoveri in area non ordinaria sono molto importanti. La stima è di 1 in terapia intensiva, 9 in area non critica. Stanno crescendo al ritmo dei 50-60 al giorno. Questo vuol dire quindi che un impatto nel sistema sanitario è importante. Cosa ci preoccupa o comunque cosa ci deve un po', insomma, far ragionare e pensare? Che noi siamo attrezzati. Il virus lo conosciamo molto di più, quindi riusciamo a prestarle cure molto, molto presto. Riusciamo a trattare la gente prima di andare in maniera invasiva in terapia intensiva. Quindi malattie infettive, pneumologia semi-intensiva. Però il problema è quello che sta mettendo, o se continua in questo modo, mette un po' sotto stress il sistema sanitario. È inevitabile perché il sistema sanitario non si deve occupare solo di Covid, ma si deve occupare anche di tutte le altre patologie. Quindi tutto quello che noi stiamo cercando di fare e anche tutti gli sforzi è quello proprio per evitare che ci sia un blocco delle attività. Alcune attività non potranno mai essere bloccate, tipo le emergenze e le ugenze, tutto il sistema oncologico, tutto il sistema della dialisi, piuttosto che altre, non potranno mai essere bloccate. Tutto tanto per essere chiari. Però vorremmo evitare anche il blocco di alcune attività di elezione o di specialistica di un certo tipo. E quindi questo è il nostro, diciamo così, problema principale. Ma la paura che abbiamo, quindi stiamo cercando di monitorare giorno per giorno, di capire come sale l'andamento, quindi applicare le varie fasi, vari piani, apertura dei Covid, parziale, dimensione provinciale e quant'altro, proprio per evitare che ci siano dei blocchi delle attività. A tutto questo si inserisce anche il fatto che, lo sappiamo, non è un problema solo Veneto, c'è una carenza forza di personale e quindi questa si va a pesare con sicuramente l'aumento di questi ricoveri. Ho molte domande ovviamente da farle dopo tutta la sua presentazione e la sua analisi. Andiamo a vedere i dati di questa mattina. Vediamo quelli nazionali, chiedo alla regia, tanto per avere un'idea di ieri, poi anche quelli nazionali. Questi sono i casi di ieri, vedete, li abbiamo già visti nei nostri telegiornali. Andiamo invece per quanto riguarda il Veneto a quelli di stamattina. Così abbiamo le decole, qui i totali casi sono quasi 50.000, più 1.555, i malati più 1.519, i ricoverati, come diceva l'assessore, più di 800, più di 800, più di 800, meno 1 in terapia di desilio, 94, i negativizzati 25.180, sono deceduti purtroppo 2.355, più 3. La domanda che le faccio è che oggi si fanno molti tamponi, poi andiamo a vedere anche, chiedo alla regia, si fa vedere anche i punti di tampone, quello dell'Euganeo dove davvero ci sono molte persone, poi anche quello nell'ospedale di... Mi sfugge il nome adesso, ogni volta mi sfugge quello a vicino Monsedici, mi sfugge il nome dell'ospedale dove fanno i tamponi 24 ore su 24. Schiavonia? Schiavonia, non mi veniva Schiavonia e la ringrazio. La domanda è questa, assessore. Nel fare molti tamponi, oggi ovviamente ci sono molti più casi. A gennaio e febbraio dell'anno scorso non si facevano i tamponi, vuol dire, vorrebbe dire che c'erano, come qualcuno ha detto, quasi un milione di intaccati che nessuno ha mai riuscito a capire e a scoprire. Può essere. Se così fosse, sono guariti tutti poi. Può essere, ricordiamoci. Cioè non è aumentato, non so se ho fatto male la domanda, facciamo l'esempio, a gennaio e febbraio e marzo c'erano un milione che non avendo fatto il tampone, naturalmente potevano essere infettati e poi questi sono guariti e non è che il livello sia aumentato di chi ha preso il coronavirus, anzi poi è andato a scemmare. E allora? Ma oggi il virus circola di più, lo vediamo anche a livello europeo questo, cioè quindi mi sembra, pensiamo alla Francia, alla Spagna, alla Germania, cioè il virus sta circolando molto, su questo abbiamo capito. Si facevano meno tamponi, eravamo meno preparati, c'era solo il tampone molecolare, poi è venuta la saponetta, il serologico, adesso il test rapido, noi siamo già, qualcuno fa la saliva, noi siamo già sul test di autorefrazione, quindi è cambiato molto. No, è cambiato, ma la mia domanda era, molto probabilmente non abbiamo i numeri certi, si presume, ma la mia domanda era diversa, quelli che l'hanno avuto, che non si poteva perché non c'erano oggi, ovviamente tutto quello che state facendo in questo momento, c'erano però poi è sparito, la domanda è come mai è sparito e non si è ramificato? Purtroppo non ne so rispondere, io non sono un clinico, non sono un medico, dovremmo avere probabilmente un epidemiologico o un effettivologo che riguarda questo, io non lo so, quello che so è che di questo virus si sa veramente molto poco. In questo senso, noi stiamo iniziando, abbiamo già fatto e adesso con l'Istituto Zooprofilattico continuiamo sulla sequenziazione del virus, quindi cerchiamo anche di capire le differenze tra le prime fasi, la fase di marzo, la fase di giugno, mettiamo di agosto, quando c'erano dei numeri ma erano molto limitati, è questa fase proprio per capire, quindi stiamo cercando di analizzare, però si sa molto molto poco di questo virus ancora. E poi tenete conto che comunque, anche sui numeri che vediamo oggi, una grande maggior parte, per fortuna, sono persone asintomatiche, molti li troviamo anche perché noi facciamo gli screening, tipo gli screening all'interno degli ospedali, all'interno delle case di riposo, all'interno di tutti i settori, diciamo così, legati all'assistenza, troviamo quindi l'operatore positivo che non sa neanche di averlo e quindi poi si fa per cerchi concentrici la famiglia. Perché oggi fortunatamente, dobbiamo dirlo, molte persone, una percentuale molto alta, non ha problemi, non ha sintomi. Poi c'è una percentuale paucisintomatici, che quindi hanno lievi sintomi e c'è quella percentuale, che sono quelli che vengono anche ricoverati, che invece ha sintomi un po' più gravi e quindi medio gravi, fino a diventare gravi, che sono quelli da terapia intensiva. Cosa, secondo me, deve essere e su cui noi ci stiamo ragionando molto? La svolta, anche per cercare di contenere questi numeri, è soprattutto la cura a domicilio, quindi cercare di mantenere le persone il più possibile al proprio domicilio, seguirle, quindi non abbandonarle, seguirle, dare le istruzioni che devono seguire, e fanno i dieci giorni di isolamento, di quarantena e la cosa, insomma, è superabile. E questo è qui. No, no, ma era una cosa che mi preoccupava, ma questi asintomatici, ovviamente io le faccio questa domanda, che poi ho chiesto ovviamente agli esperti, agli scienziati di questo caso, ovviamente mi hanno delle risposte tecniche, poi mi accorgo che succede tutto il contrario di tutto, di quello che sta accadendo, quindi, naturalmente, come diceva lei, anche loro non hanno bene un'idea chiara di cos'è questo virus. Ma scusi, cioè nel senso, ed è vero, l'ha detto l'altro giorno il Presidente Zaio, non ci aveva neanche pensato, cioè, questi scienziati di oggi sono quelli che potranno dire di aver visto un'epidemia, una pandemia, perché l'ultima pandemia che c'è stata, quindi hanno anche un materiale su cui lavorare, ci saranno gli studi del futuro su questa cosa qui, perché effettivamente c'è una situazione di questo tipo che non si verificava, erano effettivamente, effettivamente, c'è quindi anche proprio tanto materiale su cui lavorare e anche oggi una conoscenza che ogni giorno fa un pezzettino di più, che però oggi non permette di avere un quadro sicuramente completo. Senti Assessore, una delle cose che prima ha detto anche lei, che dicevano, sapevamo tutti che sarebbe ritornato, non ci credevamo in questo, con questo spessore, questo virus, pensavamo, ma sì, siamo sulla strada giusta per guarire. Invece, puntualmente, come avevano pronosticato, è arrivato prepotentemente. E lei prima diceva, manca personale, e come mai non è stata presa? Ma qui c'è un problema cronico, non è un problema solo che le regioni, io parlo per il Veneto, non si sono attrezzate. Il problema del personale è un problema cronico. Cioè, la programmazione nazionale è una programmazione, l'abbiamo detto dappertutto, anche con gli ultimi provvedimenti prima del coronavirus. Quindi parliamo con il patto per la salute del 2018-2019, quindi stiamo parlando non a 2020 quando è scoppiato il coronavirus. Avevamo messo in campo tutta una serie di misure proprio perché c'era la carenza di personale. Voi vi ricordate la famosa delibera che noi abbiamo fatto in agosto 2019 per l'assunzione dei 500 medici laureati, abilitati, ma non specializzati, per i pronti soccorsi? Allora non si parlava di coronavirus, no, perché poi è arrivato a febbraio 2020, eravamo ad agosto 2019. Quindi la carenza personale è una carenza cronica, una carenza su cui hanno pesato la sbagliata programmazione nazionale, perché è una programmazione nazionale relativa appunto al numero delle facoltà, al numero chiuso, ma soprattutto al numero di borse di studio. Cosa succede? Succede che sono sicuramente, hanno cercato di riparare a livello centrale, ma siccome per avere una specializzazione ci vogliono 5 anni, noi abbiamo sicuramente 3 anni di sofferenza pura e l'abbiamo visto e lo stiamo vivendo con questa emergenza, perché oltre alla carenza che noi avevamo già di personale sanitario, medici, 1300 in Veneto, ma infermieri? Stanno mancando gli infermieri? C'è oggi un dramma, è proprio quello degli infermieri che servirebbero in ospedale per i posti letto di terapia intensiva, semi-intensiva, tutti i posti letto nuovo. Nel territorio per i dipartimenti di prevenzione, per fare il contact tracing, per fare appunto i tamponi e tutto il resto. Nelle strutture extra ospedaliere, le case di riposo, le strutture per disabili, cioè lì mancano tantissimi infermieri. Vuoi perché con il fatto che le regioni che prima erano commissariate hanno potuto assumere, quindi molti sono tornati a casa loro, insomma diciamo. La regione Merito in questo caso non ha il potere di poter assumere delle infermieri, dico al di là di quello che... Ma non ci sono. Ah non ci sono proprio. Non ci sono, noi adesso non ci sono, cioè nel senso noi adesso abbiamo aperto con Azienda Zero un nuovo bando, perché adesso ne escono dalla scuola di infermieristica della specializzazione, qui a novembre ne escono 400 circa, quindi apriamo subito un bando per poi avere l'assegnazione, ma sono già tra virgolette prenotati, cioè ce ne vorrebbero molti di più e non ci sono. Quindi tutto è stata una programmazione nazionale sbagliata che adesso pesa ancora di più in questa emergenza perché oltre alla carenza storica abbiamo la carenza del personale che è infettato, perché oggi purtroppo anche il personale medico, sanitario, ospedaliero e non si infetta sia nelle case di riposo sia all'interno degli ospedali. Domanda, ma quando il Presidente della Regione Merito, i vari Presidenti delle Regioni vanno e hanno il collegamento con il Presidente del Consiglio, ovviamente esporranno questo problema? No, ma no, sì sì, lo diciamo, lo sanno tutti. Tipo adesso, qual è il problema? Terapie semi-intensive, che è quindi il passaggio prima della terapia intensiva e va bene perché quindi è un trattamento molto meno invasivo, cioè non c'è la ventilazione con il tubo, quindi è meno invasivo, ha bisogno di pneumologi, sono i pneumologi che seguono le semi-intensive. Non ce ne sono, non li troviamo, le aziende ne hanno alcuno, alcuno si è anche infettato, eccetera, stiamo utilizzando gli internisti, quindi quelli che sono aree di medicina, eccetera, con una formazione ad hoc. E non è solo il Veneto, è un problema nazionale. C'è un problema che le Regioni hanno lanciato questo grido allarme, non so in quante lingue, purtroppo è rimasto per molto tempo inascoltato e oggi si sta cercando con l'emergenza, i bandi protezione civile, però non c'è la risorsa prima. Senta, questa problematica ovviamente, che è una problematica che avrà delle ripercussioni dunque nel paziente, di chi ne aveva bisogno, come si potrà risolvere? Mi scusi la battuta, lo lasciamo lì? No, 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 no. Tranquillizziamo tutti. Nessuno verrà abbandonati, i Veneti saranno curati. Cioè noi manterremo aperti tutto il più possibile fino all'ultimo momento, solo se a un certo punto decideremo di chiudere qualche attività, ma non sarà l'attività di emergenza, urgenza oncologica, seria, grave, eccetera. Quelle le garantiamo di default. Il personale è il personale che oggi è in grado di assistere, però è molto carico, quindi straordinari, non ha fatto vacanze, non ha fatto ferie, non ci possono essere quindi periodi di riposo, eccetera. Quindi è un personale molto stressato. Però il personale oggi nostro, e va anche ringraziato nostro, ma come io credo quello tutti i sistemi sanitari, perché c'è anche una questione deontologica, insomma professionale, è un personale che sta facendo i salti mortali e che effettivamente sta dando tutta l'assistenza possibile. C'è qualcuno di personale che è molto arrabbiato perché specialmente gli universitari non è stato dato un premio. Sì, ma lì non potevamo darlo. No, no, capito, non vuoi, però sono un po' arrabbiati. No, no, ma noi anche su questo abbiamo insistito con la parte centrale romana, abbiamo chiesto anche delle modifiche, avevamo presentato gli emendamenti per modificare il IEL. Sì, ricordiamo i telespettatori. Il IEL rilancio, non è stato recepito. No, ricordiamo, è stato dato un premio a tutti gli ospedali. Ma non possono, non sono inclusi gli universitari. Gli universitari, tanto per capirlo e per spiegare. Non sono inclusi gli universitari come non sono inclusi neanche gli specializzanti. Un'altra parte, sia quelli con titolo universitario, sia gli specializzanti. Però è una partita nazionale, noi adesso stiamo cercando di fare qualcosa, insisteremo di nuovo. Io riesco a capire queste cose, assessore, insomma, delle cose di una semplicità, va beh, che succede, si trovano delle difficoltà davvero incredibili e la gente ovviamente che ci lavora poi rimane scontenta perché loro sì e noi no. Perché il medico, il dottore aziendale, il dottore invece universitario che vuol dire insomma che arriva dall'università e quindi fa anche sia formazione sia reparto, qual è la differenza? Nessuna? Nessuna. Eh beh, è quello che le sto dicendo. Speriamo venga riparata questa cosa. Senta, nei numeri che diceva prima, i numeri aumentano di 50 casi al giorno, mi sembra di capire. Più o meno, di ricoveri in area non critica. Di ricoveri in area non critica. Avete un'idea, un'ipotesi? Per quanto aumenteranno questi numeri con questo di PCM che è stato fatto? Se diminuiranno in tempi brevi o in tempi lunghi o se bisognerà fare una chiusura totale? In modo tale da poter far sì che l'ospedale non diventi una zona rossa? No, no. Allora noi abbiamo un piano anche modulare. Quindi scatta la seconda fase, appunto la terza fase, scatta quando siamo dai 900 ai 1500 ricoveri in area non critica e poi le fasi successive. Quindi noi abbiamo comunque un buon bacino di posti letto per ricoverare appunto pazienti con Covid mantenendo intatti gli hub, quindi non vogliamo toccare gli hub, Padova, Vicenza, Treviso, insomma le strutture principali che devono continuare a lavorare, che devono continuare quindi a poter dare tutti gli altri servizi. Quindi manteniamo intatto gli hub e chiudiamo invece man mano quelli che possono essere appunto i presidi dei famosi 10 Covid hospital. Quindi non mettendo in discussione quella che è la programmazione ma quella che è anche oggi insomma l'esigenza. Cosa può effettivamente succedere adesso? È difficile dirlo. Questo lockdown, minimo lockdown, insomma le misure dell'ultimo DPCM non lo so cosa porteranno e lo vedremo tra dieci giorni, insomma due settimane circa. Secondo lei? Ma io credo poco, perché sinceramente io credo che non è che uno che va al ristorante a mezzogiorno non rischia di infettarsi e la sera sì, obiettivamente. Cioè quindi alcune misure non le abbiamo. Cosa avrebbe fatto lei? Ma io penso che insomma potevano pensare di ridurre, non so come era stata la proposta anche del Veneto, di dire chiudeteli alle 23, tutto però non chiudeteli alle 18, qual è la differenza tra le 18 e le 23? No, ha ragione, però la domanda è questa, dicono che questo virus arriva tramite aggregazione, non tanto meno, dicono più gente sta più assieme, più possibilità di prenderlo. Però avevano già previsto, mi sembra quello prima, il discorso. No, per una domanda, nel ragionamento suo che lo trovo corretto, dovevano chiudere tutto, cioè dovrebbero chiudere anche il pomeriggio, perché il ragionamento suo ha un stesso, cioè dovrebbero chiudere il ristorante tutto il giorno come avevano già fatto. Ma sì, ma come c'è anche, ci sono delle contraddizioni, chiudono i teatri e i cinema, dove ci si sedeva un posto sì, un posto no e anche se si teneva la mascherina, no? Per carità, poteva essere l'ingresso, ma lì poteva essere regolamentato e lasciano aperti i musei, qual è la differenza? No, non lo so dovete dirlo fuori. No, no, quindi non lo sa insomma con che spirito, però siccome sono misure che ha preso il governo, sentendo il CTS nazionale, il CTS nazionale avrà fatto una visione, non lo so. Una delle cose che mi fa arrabbiare, le dico, da cittadino più in questo momento da giornalista è che mi piacerebbe che sotto un profilo sanitario ci fosse un'unità di intenti nella politica, cioè io non guardo destra, sinistra, centro, alto e basso, mi piacerebbe che l'Italia politica, l'Italia che prende le decisioni, quella al potere, che governa e quella alla posizione, almeno in questa fase fosse d'accordo. Io credo che indipendentemente non sarebbe mai d'accordo anche se le parti fossero opposte, però credo che davvero ci vorrebbe una motorità sotto questo senso, che non arriverà mai molto probabilmente, ma credo che sarebbe l'unico sistema, ma lo dico dal mio modo assolutamente personale, per poter risolvere i problemi che l'Italia ha, quantomeno sotto un profilo sanitario. No, ma è chiaro, hanno messo tante volte in discussione il discorso delle autonomie locali, con questa pandemia è venuta fuori tante volte il discorso dell'accentramento dei poteri. Io credo che la sanità, che è già una sanità regionale, perché di fatto oggi è così. Ma è un grande potere il Presidente della Regione Veneto. No, è così, ma ha anche dimostrato la differenza, cioè il Veneto oggi, proprio perché insomma ha costruito un sistema, ha dalla prima fase, ha cercato di mettere in piedi una serie di questioni, di accorgimenti. Oggi stiamo pensando a tutti i rapporti con i medici di medicina generale per fare i tamponi, per il contact tracing, le cure domiciliari, cioè cerchiamo di andare molto veloci, di essere un po' paralleli a questo virus, poi sarà più veloce di noi, però insomma cerchiamo di osservare e di essere pronti a reagire immediatamente, perché la nostra è una sanità, come la definisce il Presidente, è un arbitro saltoriale, che ci siamo costruiti noi adesso, cioè con i nostri professionisti, che riusciamo con la nostra squadra. Pensare a accentrare questo, io sono molto preoccupata, o sarei molto preoccupata. La parte centrale deve cercare di fare una regia, quella sì, è un coordinamento, ma non c'è stato, perché se vediamo cos'è successo anche con questi di PCM, in cui un Ministro dice il contrario dell'altro... ma secondo lei dipende da loro o dipende dal Comitato Scientifico? Perché io presumo, credo, mi auguro... Però il Comitato Scientifico è un'emanazione del Governo, cioè il Comitato Scientifico risponde al Governo, risponde quindi al Ministro della Salute piuttosto che al Premier Conte e quant'altro, cioè quindi il Comitato Scientifico deve dare le indicazioni al Governo di... però è un'emanazione e quindi ha un ruolo sicuramente importante. Cioè non è che il Comitato Scientifico, credo, possa camminare da solo senza l'interlocuzione con... Però spero che almeno quello sia sopra delle parti politiche. Ma sì, certamente che sarà... cioè deve avere criteri clinici, criteri statistici... E allora se Assessore viene al Comitato Scientifico e dice, senta Assessore Lazzarino, per andare bene, per guarire, bisogna chiudere tutto. Lei cosa fa? Beh, bisognerebbe valutare bene la situazione e quindi valutare. Cosa vuol dire chiudere tutto? Vuol dire... Vuol dire anche... perché noi dobbiamo renderci conto di una cosa molto importante, che è vero siamo in emergenza sanitaria, è vero che stiamo affrontando l'emergenza sanitaria, parliamo di numeri, di ricoveri, di persone guarite, di persone in area critica, in area no critica. Ma guardate che domani l'altra emergenza, no? Domani è oggi. Questo è vero. È l'emergenza economica e sociale. Cioè io proprio ieri parlavo con la Laugelli del progetto Inoltre, che è il progetto anti-suicidi, no? Che noi avevamo messo in piedi con... La prima volta avevamo messo in piedi con il problema degli imprenditori, i suicidi degli imprenditori con la prima crisi. Poi ha seguito tutto il discorso anche delle banche, quando c'è stato tutto il crack delle banche. Cioè mi dice oggi, cioè noi riceviamo il nostro team di psicologi... E quindi deve entrare nella politica. E ha ragione. Ma anche qui, Assessore, io credo che le cose siano talmente di una semplicità e che poi si possono risolvere, ma non c'è la volontà. È un mio anche questo pensiero. E le dico. Se oggi il governo, tramite il comitato scientifico, dice per guarire da questa malattia bisogna chiudere. Faccio un esempio. Bene, si chiude. L'Europa, lo Stato, deve dire bene, chiudiamo per il bene del popolo italiano, del popolo europeo, del mondo intero. Io, tu hai la partita IVA, hai quello che hai denunciato, per i giorni che tu stai a casa io ti do. Corretto. Corretto. Allora, non quello che lavora in nero, ma quello che lavora in maniera regolare, che ha denunciato, viene a retributo di questo. Ma la conferenza delle regioni e i presidenti hanno sempre detto questa cosa. Volete fare il lockdown? Ritenete che il vostro, che il comitato scientifico dice che bisogna chiudere? Cioè ci siano contestualmente i ristori per le palestre, per le piscine, per i ristoranti, per qualsiasi attività che deve chiudere? Perché io sono convinto che i soldi ci sono. Tanti dicono che non ci sono, sono convinto che i soldi, dell'oro, qualcosa c'è sempre. Poi siamo un popolo miracolato sotto un certo punto di vista. Si hanno sempre difficoltà, però nei momenti di emergenza qualcosa viene sempre fuori. Rimaniamo qui, andiamo in pubblicità, poi continuiamo con l'ascensore tra poco.